buonasera a tutti 5 novembre 2021 buonasera a margherita di casa del sole buonasera a tutti e buonasera a roberto quaglia buonasera a tutti allora cominciamo subito a scusate oggi è il 5 di novembre è il secondo anniversario di contro tv quindi ci facciamo un piccolo applausino noi una piccola una piccola due candeline abbiamo è nato il 5 di novembre di due anni fa con una prima trasmissione con con giulietto chiesa remember remember novembre esatto bravo bravo non volevo dirlo io remember remember the fifth of novembre allora cominciamo con il fighter gate perché si parla soprattutto di questo in questi giorni che cos'è esattamente perché c'è abbastanza confusione su questa strada del fighter gate allora è si tratta di un articolo uscito sul bmj cioè il british medical journal che si intitola vediamo la serie numero uno un ricercatore denuncia problemi sulla integrità dei dati nei test del vaccino fighter ed è firmato dal giornalista investigativo paul sacer allora il sapete che l'anno scorso quando c'è stata la corsa al vaccino la fighter aveva affisa aveva affidato una quota delle delle sue sperimentazioni mille pazienti circa su 40.000 a una società texana che si chiama chi si chiama si chiamava si chiama ventavia allora leggiamo dall'articolo slide numero due per i ricercatori che stavano testando il vaccino della fighter in diversi laboratori in texas durante l'autunno la velocità nella sperimentazione intende c'è la fretta di fare la sperimentazione in fretta potrebbe aver compromesso l'integrità dei dati e la sicurezza dei pazienti vediamo la serie numero 3 un direttore regionale impiegato presso l'organizzazione di ricerca ventavia ha dichiarato al bmj british medical journal che la società ha falsificato i dati ha rivelato l'identità dei pazienti ha utilizzato dei vaccinatori che non erano stati adeguatamente addestrati ed è stata lenta nel verificare gli eventi avversi che venivano segnalati nella cruciale fase 3 della sperimentazione del fighter allora chiari chiaremo bene i punti dell'accusa perché non sono affatto da scherzarci sopra vediamo se il numero 4 gli oltre li ho rimessi in italiano allora ha falsificato i dati e questa va bene non c'è niente da discutere ha falsificato i pesanti come cosa per una società che fa il test della del nuovo vaccino non è male ha rivelato le identità dei pazienti cioè un blind patient questa è importantissima perché il doppio cieco si chiama in inglese double blind cioè doppio cieco appunto ambra i due peci cioè gli ade cecati cioè le ha reso nota la identità c'è una cosa che dovete sapere assolutamente nessuno nei laboratori dove si fa la ricerca deve sapere chi ha ricevuto il placebo e chi ha ricevuto il vaccino perché è la condizione sine qua non per poter stabilire delle percentuali senza poter manipolare i dati quindi nel momento in cui hanno reso noti reso accessibili non noti non è che li ha pubblicati ma erano a disposizione di tutti i dati di chi aveva preso il placebo chi no automaticamente chiunque può andare a prendere quei nomi e manipolare i dati finali quindi questa qui è una cosa molto grave la terza cosa ha utilizzato vaccinatori che non erano stati adeguatamente resta addestrati se torna la slide numero 4 please e poi la quarta è stata lenta nel verificare gli eventi avversi questa è un'altra cosina da niente cioè quando il paziente ha una reazione avversa grave il paziente che sta facendo il test alla reazione avversa che bisognerebbe immediatamente segnalarlo telefonarli andarlo andarlo a trovare o comunque mettere me fare una scheda medica di quello che gli è successo esattamente invece pare che non avessero proprio nessuna fretta i pazienti che facevano il test telefonavano dicendo avuto una reazione avversa e magari gli arrivavano a telefonata cinque giorni dopo quindi è chiaramente c'è un modo di fare chiaramente molto molto trasandato chiamiamolo così e questi sono i famosi test che sono serviti i famosi 40.000 questi sono mille dei 40.000 che sono serviti poi ad autorizzare in tutto il mondo in gran fretta il vaccino della feitzer e da questi famosi test tra l'altro è uscito anche il famoso 94 per cento di efficacia che si conclamava all'inizio adesso per concludere il discorso vi faccio anche vedere come open di mentana ha provato a difendere la società che lavorava per la feitzer perché loro naturalmente sono talmente indipendenti che dipendono difendono sempre le farmaceutiche per qualche motivo vediamo la slide numero 5 dice nelle conclusioni l'articolo di open nell'articolo del bmj non vengono riportate le prove di un'effettiva falsificazione dei dati da parte di ventavia certo che no puente è un articolo non è un tribunale però c'è una persona che ha denunciato queste cose e soprattutto nell'articolo stesso che evidentemente puenti non hai letto con attenzione c'è anche scritto chiaramente che tutte le prove fotografiche e testimoniali sono state depositate dalla whistleblower sono state mostrate al bmj quindi il fatto che non ci siano nell'articolo non vuol dire che non ci sono pointe seconda cosa vengono riportate le accuse della gestione del trial clinico di fase 3 riguardanti una singola società la ventavia che si occupava di appena mille volontari su 40.000 dell'intera fase sperimentale questo è vero ovviamente è vero che erano solamente 1000 su 40 mila ma visto il modo scarcassato con cui hanno fatto i test lì nulla ci garantisce che negli altri 39 mila casi se invece state seguite le procedure corrette quindi un indizio veramente forte ed è curioso che open di ventana appunto invece di fare del giornalismo vada sempre comunque a difendere automaticamente le case farmaceutiche chi vuole commentare beh diciamo che la prima cosa che mi è venuta in mente a tale riguardo era sfattato per l'ennesima volta il mito introdotto a suo tempo da umberto ecco che se ci fosse un complotto qualcuno avrebbe parlato bene stavolta qualcuno ha parlato c'è stato whistleblower e com'è che reagisce il sistema e regisse il sistema con dei degli spedienti come ha fatto open per cercare di negare il fatto quindi è la prima cosa che mi è venuta in mente la seconda cosa che mi è venuta in mente è che adesso che è saltato fuori questo inghippo questa questa imprecisione diciamo questa falsificazione a livello di a livello degli studi mi chiedo se la ema revocherà il la diciamo l'autorizzazione a falsa chiaramente una domanda retorica visto che ha usato il pretesto di alcune presunte regolarità per non autorizzare sputnik quindi a questo punto per la par condicio se fosse un'azienda se le direbbe a momento ci sono dei problemi anche qui allora e chiaramente questo non avrà e poi sottolino come detto tu il fatto che in un caso ci sia un whistleblower che abbia rivelato i fatti non ci garantisce che anche in molti altri casi se questo è il modus operandi se questa è la serietà con cui sono state fatte le ricerche questo non garantisce affatto che questa cosa sia avvenuta in molti altri casi nei quali non c'è stato whistleblower diciamo che dopo un evento del genere la risposta esatta è indaghiamo su tutti gli altri casi teoricamente dovrebbe essere quella margherita sì teoricamente dovrebbe essere quella ricordiamo comunque che oramai tutti quanti si difendono con il fatto che il vaccino comunque non sarebbe stato fatto per proteggere dal virus ma per proteggere dai gravi effetti del del famoso virus diciamo no quindi questa penso che potrebbe essere la nuova giustificazione e poi ricordiamo anche che il però scusa margherita no scusa non è vero perché all'inizio ci hanno detto che il virus si avrebbe salvato dal covid punto l'avrebbe fatto sparire solo dopo quando hanno quando si è scoperto loro secondo me lo sapevano già che la validità cadeva con una velocità super sonica allora ha detto sì però almeno ti cura delle forme gravi cosa che rimane comunque tutta da dimostrare scusami sì sì infatti volevo dire proprio questo che poi hanno cambiato la versione e questo a questo punto questo dato che è appena uscito e a maggior ragione potrebbe la risposta potrebbe essere sempre questa no a questo dato che è uscito potrebbe essere essere amplificata no questa risposta che viene data e poi c'è da dire anche che comunque la persona che ha rivelato questo segreto diciamo così è stata licenziata in tronco ora è questo un altro di fatto io spero che ci siano molte altre persone come lui che vengono fuori a rivelare questi questi segreti sicuramente ci saranno ma speriamo che lo facciano prima piuttosto che dopo perché comunque anche se dall'altra parte ci saranno comunque delle giustificazioni delle scusanti che verranno amplificate nel mainstream in ogni luogo in ogni modo ma comunque è importante sapere e poter controbattere ma vedi c'è anche un'altra cosa da dire il fatto che uno che fa che denuncia queste cose viene immediatamente viene immediatamente licenziato è un messaggio per tutti gli altri che sapete anche voi certe cose ma è meglio che stiate zitti se non volete perdere il posto quindi il fatto del licenziamento immediato giusto come sottolinei tu significa che evidentemente c'è anche lì una regola dell'omertà ovvia che bisogna assolutamente tenere a tutti i costi e se per caso uno si permette di trasgredirla viene immediatamente segato dunque passiamo all'argomento Puzzer perché sta diventando una cosa simpatica un paio di giorni fa ero in una trasmissione con lui a un certo punto abbiamo detto dico pensa che bello sarebbe se la gente cominciasse a scendere in piazza con dei tavolini magari oppure a imitarti oppure cominciassero tutti andare lì a dire io sono Stefano Puzzer io sono Stefano Puzzer chissà cosa succederebbe in tutte le piazze d'Italia bene cominciano ad arrivare le prime le prime immagini e le prime notizie in questo senso vediamo un pochino scusami la slide numero 6 questa qui è una piazza di Torino e vediamo se si arriva adesso eccola qua allora praticamente c'è la sedia a sinistra per il neosindaco lo russo poi c'è una di fianco rossa per il presidente della regione Cirio c'è una per la Confcommercio a destra già in mezzo dietro c'è quella di Speranza poi c'è neanche una piccolina per Brunetta in basso gli hanno messo la sediolina dei bambini questa qui è sicuramente divertente ah io non mi accanirei mai contro Brunetta per il suo diciamo per la sua limitazione fisica perché non è corretto ma da quando l'ho sentito fare quel discorso bastardo dove godeva come un matto a dire che lui ricatta gli italiani con il coso non me ne frega più niente e lo prendo in giro allora tra l'altro invece poi ci sono vediamo il video numero uno perché sono cominciano ad arrivare quelli appunto io sono Stefano Puzzer io sono Stefano Puzzer vediamo il video numero uno io sono Stefano Puzzer 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 eccolo qua beh ragazzi io non so è una cosa pacifica è una cosa innocua ma secondo me è un messaggio molto potente molto potente soprattutto perché manda a dire guardate che ne sopprimete uno e ne vengono fuori 100 cosa ne pensate voi Margherita? beh penso esattamente sì quello che hai detto te questo è un messaggio molto forte come d'altronde è stato un messaggio molto forte quello che ha inviato la questura di Roma con il DASPO urbano è messo l'altro giorno nei confronti di Stefano Puzzer una cosa assolutamente ridicola nei confronti di un atto assolutamente pacifico e puramente dimostrativo in piazza del popolo certo riconosco che in questa fase storica così buia e così triste quantomeno per il nostro popolo se non per altri popoli ma in particolar modo per noi italiani in cui si sta vivendo un vero e proprio esperimento sociale riconosco che forse c'è stato un pelo di ingenuità politica da parte di Puzzer perché probabilmente in questi periodi bui ripeto forse bisognava fare qualche altro tipo di atto come per esempio muoversi da una piazza all'altra però allo stesso tempo riconosco che il gesto simbolico di mettere un tavolino con tre o quattro sedie con il nome del Papa Draghi eccetera eccetera Putin anche mi sembra è un gesto così simbolico carino simpatico pacifico e anche ironico se vogliamo che è facile da imitare nelle altre piazze e benvenga se fosse possibile imitarlo ovunque dimostrando appunto che chiudete la bocca ad una persona per modo di dire ovviamente perché comunque non è possibile per il momento ma altre cento mille un milione e quant'altro si potranno attivare al posto suo quindi questo è sicuramente un esempio un bel esempio certo sarebbe bello vedere in Italia quello che è successo anche in Francia nei periodi precedenti quando c'erano stati i famosi balli nelle piazze sulle note di Don C'est Ancora scusate il mio accento francese è sempre stato pessimo senza riconoscersi necessariamente in una persona però è un dato di fatto che in questo momento Stefano Puzzer rappresenta in buona parte le persone che sono contrarie al Green Pass e quindi anche questo è un modo per dire la propria opinione in un momento in cui si può parlare sempre di meno in un momento in cui la censura avanza sempre più forte come stiamo vedendo anche nelle piazze anche perché è nello stesso giorno in cui c'è stato il daspo per Puzzer che la mattina successiva è stato costretto a rientrare a Trieste prima di tornare a casa si è dovuto presentare alla questura di Trieste ricordiamolo perché non lo sappiamo non è assolutamente un personaggio pericoloso ma in quello stesso giorno sono state chiuse alle manifestazioni Green Pass anche le piazze oltre a quella di Trieste anche le piazze di Treviso di Udine e di Pordenone quindi ragazzi se andiamo avanti così io spererei viviamente che ci siano tanti tavolini e molte sedie piccoline anche per il signor per il signor nostro ministro piccolino insomma lì di fronte sarebbe carino e simpatico Roby si Puzzer è diventato un simbolo nel momento in cui lo Stato ha emesso un atto formale per per cacciarlo via dalla capitale col foglio di via che è una cosa assolutamente incredibile se ci pensiamo lo Stato che ha paura di un uomo solo che si siede su una sedia è straordinario devono avere una coda di paglia notevolissima per scendere così in basso e chiaramente hanno fatto di lui adesso un simbolo giustamente è stato molto bello vedere questo filmato e tra l'altro vedere tutte queste persone che si mettono la maschera di Puzzer ha un aspetto particolarmente poetico se pensiamo che oggi è il 5 di novembre che nel famoso film vi come vendetta e nell'omonimo fumetto è il giorno in cui le persone mettono tutta la maschera per scendere in piazza e combattere il tirano quindi questa involontaria sovrapposizione di date ha un elemento poetico certo c'è da sperare che la cosa si si diffonda che la protesta sfrutti questa simbologia per per affermarsi perché loro non si fermeranno e quindi se ci fermiamo noi siamo spacciati poi bisogna dire una cosa all'onore di Stefano lui la sua parte l'ha fatta le sue legnate le sue bagnate in faccia con l'acqua gelida le ha prese la faccia ce l'ha messa fin troppo e ha portato a casa tutte le tutte le botte diciamo psicologiche non tanto fisiche perché non è stato menato fisicamente ma psicologicamente lo vedevi anche in certi momenti che era veramente sopraffatto dall'idea che uno stato possa dire no tu vai via dalla mia città perché perché ti sei seduto lì con un cartello cioè roba che non sarebbe stata concepibile due anni fa quindi mi auguro che domani sabato molta gente segue il suo esempio poi fateci sapere casomai mandateci le foto e se andate sul luogo comune trovate il format dei contatti e lì potete farmi avere tutti i materiali che volete a Greta a Greta quando si sedeva davanti ai palazzi a protestare no l'era eroica qual è la protesta esatto qual è la protesta fittizia che viene caldeggiata dai potenti e quella reale che davvero fa loro male e incute spavento tra l'altro Stefano si è presentato in piazza proprio perché non aveva ricevuto una risposta dal governo ricordiamolo mentre invece Greta altro che risposte che ha ricevuto dai vari governi e non solo da uno l'ha ricevuta dappertutto lei lui invece è stato sfanculato diciamo così allora adesso abbiamo una bella notizia per tutti quelli che si sono fatti la doppia dose che hanno avuto il green pass e che hanno detto bene io sono fuori dalla melma a me non me ne frega più niente io sono a posto arrangiatevi voi che non ce l'avete vediamo la slide numero 7 la proposta di Bertolaso ritirare il green pass a chi rifiuta la terza dose avete visto che allegria c'era qualcuno che aveva detto c'era qualcuno non mi ricordo chi ma a memoria qualcuno che aveva detto occhio perché una volta che si accetta questa logica del green pass si entra nella schiavitù si consegnano ci si consegna proprio con le mani ci si fa mettere le manette si è anche felici di farselo fare che è la cosa più bella che ci possa essere per chi comanda avere un popolo che si sottomette intenzionalmente volontariamente bene questo è quello che ci aspetta noi ormai abbiamo detto tante volte che diventiamo ridondanti a ripeterci però andava segnalata secondo me questa notizia è interessante che con questa con questa fretta di iniziare a minacciare di togliere il green pass a chi deve fare la terza volta credo che non facciano un grande servizio alla loro campagna vaccinale verso quelli che non hanno ancora neanche fatto la prima perché in pratica loro cercano di spingere col ricatto milioni di italiani a farsi le due dosi con la promessa che poi dopo potranno continuare con la vita civile normale ma adesso si sono già traditi e ha detto tanto poi non basterebbero perché poco dopo dovete fare anche la terza quindi sarà molto più difficile convincere quelli che non hanno ancora convinto con questa minaccia ulteriore che si sono lasciati scappare ecco infatti ma sai quelli che non si sono convinti ancora penso che ormai l'abbiano capito anche loro che sarà molto complicato però intanto si continua con gli altri e soprattutto si inizierà con i bambini non molto tardi perché comunque già negli Stati Uniti è stata data l'autorizzazione a poter vaccinare i bambini dai 5 anni in su quindi adesso iniziamo a toccare i bambini e ovviamente tra qualche mese succederà anche in Europa e quindi anche in Italia e quindi lì ci sarà la percentuale dei vaccinati che aumenterà quindi non hanno bisogno dei cinquantenni che continuano a non vaccinarsi perché tanto andranno a toccare le fasce veramente più deboli che sono i bambini infatti io mi ricordo non so chi che ho sentito nei giorni scorsi o Razio o Bassetti uno di questi che ha fatto proprio ragionamento dicendo qui per arrivare al 90% dobbiamo andare a prendere i bambini un po' come Hitler che non aveva più i soldati da mandare in guerra e allora mandava i ragazzini di 15 anni perché per pure di avere qualcuno che andava al fronte che è una cosa doppiamente pazzesca prima per vai a far correre un rischio inutile dei bambini che di rischio di morte hanno esattamente zero rispetto al covid e secondo perché appunto li usi per poter dire abbiamo raggiunto il 90% allora calcoliamo anche le formiche dentro nel conteggio degli italiani così lo facciamo anche le formiche le abbiamo subito al 100% e facciamo prima non dirlo perché prendono spunto e evitiamo anche di suggerire gli animali domestici per favore non dirlo va bene va bene ritiro tutto ritiro tutto dunque credito sociale quella cosa strana che succede in Cina quella storia dei punteggi sociali per cui ti dicono se sei un bravo cittadino che però da noi non succederà mai perché noi siamo siamo un popolo siamo dei popoli più evoluti siamo più democraticamente avanti quindi da noi una cosa cosa del genere non succederà mai giusto slide numero 8 questa pagina viene direttamente dal governo inglese gov.uk come vedete sopra new pilot all'epipo allora nuovo progetto pilota per aiutare la gente a mangiare meglio e a fare più esercizio una nuova app che aiuterà le persone a fare dei cambiamenti positivi alla loro diete e all'attività fisica sarà lanciata l'anno prossimo il ponteggio sarà attribuito guadagnerete punti se aumenterete il numero dei passi compiuti e se mangerete più frutta e verdura e questo punteggio potrà essere trasformato in un pass noterà la parola pass per la palestra e sconti in negozi selezionati quindi tutti a correre come dei criceti per far andare sulla app il numero dei passi così ti guadagni la felpa nel negozio sportivo cioè ragazzi rendiamoci conto veramente non sappiamo più come dire queste cose ma è pazzesca questa storia eppure è Inghilterra non è Cina esatto che inizia con i premi per cui all'inizio ti danno i premi e poi si invertiranno i fattori per cui ci saranno invece le penalità per quelli che condurranno una vita poco sana dove la sanità della vita viene decretata da loro a loro insindacabile giudizio all'inizio ci saranno delle questioni sulle quali conguardiamo tutti certo camminare fa bene mangiare bene fa bene ma poi in seguito la cosa si fonderà con l'impronta di carbonio per cui tutte quelle cose belle che abbiamo già illustrato nelle nostre fantasticherie nelle settimane scorse e che adesso già loro come se avessero ascoltato la nostra trasmissione hanno già promesso di iniziare a mettere in atto comunque anche nel caso britannico oltre che nel caso italiano comunque quest'app sarà collegata anche al Ministro delle Finanze noi tutti dovremmo sapere se già non lo sappiamo che il nostro Green Pass è collegato al Ministro delle Finanze è collegato al nostro codice fiscale quindi dal primo febbraio del 2022 oltre ad avere i britannici a poter godere di questi punti per poter avere degli sconti in alcuni negozi o cose di questo genere attraverso quest'app potranno anche pagare le tasse per esempio e chissà come mai insomma succede questa cosa e attraverso quest'app potranno pagare le tasse anche con una nuova valuta digitale a cui il governo britannico sta pensando proprio per il prossimo anno è la stessa cosa che sta succedendo ci sta pensando il governo insieme alla Banca Centrale d'Inghilterra ovviamente mica in maniera autonoma che è la stessa cosa che sta succedendo in Cina quindi ora abbiamo sempre parlato in un certo modo e denigrato come anche giustamente abbiamo denigrato il regime comunista della Cina pensando che fosse lontano pensando che fosse distante distante eccoci siamo qui siamo arrivati il primo gennaio del 2022 non è distante e questo metodo arriva in Gran Bretagna noi abbiamo già un Green Pass collegato al Ministero delle Finanze che ci permette o non ci permette di andare al lavoro che ci porta via il nostro stipendio ci porta via il pane con cui dare da mangiare ai nostri figli quindi è ora di riuscire a capire cosa significa Green Pass non è un sistema per renderci liberi per farci tornare alla vita di prima è un sistema per renderci schiavi le manette le abbiamo già con questo Green Pass è molto semplice ma volevo sottolineare quello che ha detto Roberto importantissimo iniziano sempre con un aspetto una cosa positiva una cosa piacevole è come quando facevano vedere quelle pubblicità le prime pubblicità del 5G che c'era il dottore che era andato a fare il matrimonio della figlia su un'isola deserta e lo chiamavano e lui col 5G da lontano poteva fare l'operazione dirigere l'operazione chirurgica dall'altra parte del mondo ti fanno sempre vedere una cosa positiva perché uno dice che bello questo qui veramente questo è il futuro cozzo dai non vedo l'ora e poi ti fottono perché te lo ritrovi esattamente in quel posto e qui è la stessa cosa adesso cominciano con i premi ma poi una volta ripetiamo ancora una volta facciamo finta di non averlo mai detto una volta accettato il principio del premio della discriminazione non se ne esce più perché può essere usato per qualunque cosa e siccome sappiamo che tipo di gente abbiamo che ci controlla e ci comanda quel qualunque cosa non è affatto bello da vedere e comunque Massimo quel qualunque cosa non è necessariamente positiva è perché il fatto che mi controllino la mia dieta o quanti passi io faccio il giorno non è detto che sia positivo perché se esiste un sistema sanitario nazionale come esiste sia in Italia che in Gran Bretagna e presumo anche in Cina mi sembra se esiste questo io ho tutto il diritto di andare dal mio medico se voglio e dirgli guarda voglio fare una dieta piuttosto che non voglio farla se non voglio andare dal mio medico di base posso anche forse qualcuno potrà permettersi il lusso di andare da un medico privato cioè io devo essere in grado se siamo in una democrazia e se viviamo liberi di gestire la mia vita ok il fumo fa male perché fa male anche agli altri ma se io mangio più grassi rispetto ad una persona normale faccio male a me stesso non faccio male agli altri quindi io non lo vedo necessariamente come un messaggio positivo cioè il fatto che lo vedo negativo fin dall'inizio perché è come vivere nel mondo nuovo di Huxley o in 1984 è la stessa identica cosa perché io devo essere libera di vestirmi e di mangiare quello che voglio cioè non devo vivere in base ad un modello sociale che è prestabilito dal governo o da chi prende le veci del governo cioè perché non so allora a un certo punto può arrivare ai draghi che mi dicono guarda tu sei alto 1,80 e per forza di cose devi pesare 120 kg per esempio potrebbe essereci potrebbe arrivare io sono fottuto col punto lì sono fottuto mi fanno la proporzione fra altezza e peso mi vedete sparire per sempre esempio molto banale insomma però non vedo perché io devo essere costretta a fare tot passi che mi stabilisce il governo non ha nessun senso in un paese libro e democratico è evidente che noi la libertà e la democrazia ce la siamo scordati già da un pezzo ma molto bene ce la siamo scordati tanto è vero che siamo nel Draghistan io già inizio a immaginarmi che in futuro arrivi a casa suona il citofono ed è il dietologo fiscale che viene a suggerire una nuova dieta minacciando altrimenti delle imposte più alte perché rifiutando di fare una dieta si pesa sul sistema sanitario nazionale perché si ha più rischio di varie malattie ecco no penso che si pronunci un futuro abbastanza distopico su questo punto qua per fortuna abbiamo appena detto non diamogli delle idee lo scrittore di sfatta scienza in te prevale sempre purtroppo è purtroppo quello lì esce fuori e poi io stesso ascolto dalle mie stesse labbra quello che non sapevo neanche che avrei detto ecco esatto sei una mina vagante ok ragazzi vi ringrazio allora è lunedì sera e non ci sarà Roberto nelle domande ci sarò solo io per cui mandate solo quelle generiche quelle per me quelle per lui le tiriamo per la settimana dopo salutiamo Roberto grazie mille un saluto a tutti ciao un saluto a Margherita ciao a tutti e godiamoci l'unico momento allegro della serata che è la solita raccolta di meme grazie a tutti quelli che ci mandano arrivederci grazie a tutti 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 Grazie a tutti.